La brutta vicenda di Cyberpunk 2077, soprattutto la versione su console, sembra andare avanti ancora, in maniera da un lato positiva, da un altro non tanto. Ovviamente, ragazzi, spero che lo sappiate, ne abbiamo parlato anche sul canale un bel po'. Purtroppo questo gioco qui, uscito recentemente, nella versione per console soprattutto, sembra essere decisamente carente. Moltissimi parlano di gioco ingiocabile, mi hanno scritto in tanti lamentando proprio questo, altri ci stanno giocando lo stesso, quindi è comunque una cosa soggettiva per carità, ma la media mi viene da dire che il 90% delle persone hanno qualche tipo di lamentela riguardo a questo gioco. E anche su PC non è che stia andando tutto liscio, ma lì la situazione è molto migliore, tanti ci stanno giocando benissimo. Ora, a fronte di questo, CD Projekt Red ha fatto una mossa piuttosto importante, mi viene da dire, e che da certi punti di vista gli fa onore perché sono poche le aziende che si scusano pubblicamente così. Vediamo che cosa hanno detto. A quanto pare, sì, hanno promesso scuse, patch e rimborsi, e arrivo direttamente alla lettera vera e propria. E ve la leggo per intero, perché secondo me merita. Cari giocatori, prima di tutto vorremmo iniziare scusandoci per non aver mostrato il gioco su console base all-gen prima della sua uscita, e di conseguenza non permettendovi di prendere una decisione più informata del vostro acquisto. Avremmo dovuto prestare maggiore attenzione e farlo funzionare meglio su PlayStation 4 e Xbox One. Di questo ne stanno parlando tanti ragazzi, e ormai lo sapete, no? Non hanno mostrato la versione ai recensori, e questo è effettivamente un qualcosa di molto strano. Molto spesso mostrano la versione migliore, però anche dopo richiesta non si poteva neanche usare i propri asset registrati. Questa è una cosa che stanno dicendo in tanti, comunque è anche un altro discorso questo qui. In secondo luogo correggeremo bug e crash e miglioreremo l'esperienza complessiva di gioco. Il primo ciclo di aggiornamenti è stato appena rilasciato, il prossimo arriverà, entro i prossimi sette giorni. Aspettatevi di più perché aggiorneremo frequentemente ogni volta che saranno disponibili nuovi miglioramenti. Dopo le vacanze continueremo a lavorare, si aspetta una patch numero 1 a gennaio, una patch numero 2 a febbraio. Insieme questi aggiornamenti dovrebbero risolvere i problemi più importanti che i giocatori devono affrontare sulle console di scorsa generazione. Informeremo sui contenuti di ogni patch prima della loro pubblicazione. Non faranno sembrare che il gioco sui genna funzioni come su un PC di fascia alto, su una console di nuova generazione, ma sarà più vicino a quell'esperienza di quanto non lo sia. Ora, il punto è che non credo che qualcuno si aspettasse la stessa cosa su console di vecchia generazione rispetto che su PC. È ovvio, sono cose ben risapute. Purtroppo però il gioco è in uno stato tale che, ripeto, per alcuni è quasi ingiocabile. Ora, hanno promesso due patch belle grosse e ulteriori aggiornamenti. Uno è già uscito e sembra che abbia risolto alcune delle cose. Quindi verso febbraio dovremmo vedere una situazione più giocabile. Vi dico la sincera verità. CD Projekt Red è famosa per fare tanti update ai propri giochi e già negli scorsi video vi ho detto che io effettivamente mi aspetto che usciranno nuove cose, a migliorare anche questa versione qui. Da qui a dire che arriverà una versione veramente super degna di essere giocata, non come PC, ma comunque soddisfacente un po' in toto, non lo so, io sono un pochettino più dubbioso. Ma felicissimo di essere smentito se così non fosse. Ora, infine vorremmo sapere, vorremmo sempre, che tutti coloro che acquistano i nostri giochi siano soddisfatti del loro acquisto. Vi saremo gatti se ci concedeste una possibilità, ma se non siete soddisfatti del gioco così com'è su console e non volete aspettare gli aggiornamenti, potete scegliere di rimborsare la vostra copia. Per le copie acquistate digitalmente utilizza rispettivamente il sistema di rimborso di PSN o Xbox. Per le versioni fisiche provate prima a ottenere un rimborso per essere il negozio in cui avete acquistato il gioco. Se ciò non fosse possibile, contattateci all'indirizzo helpmerefund.com e faremo il nostro meglio per aiutarvi, potete contattarci a partire da oggi fino al 21 dicembre 2020. E si conclude la lettera così. Ora, se questo da un lato, come ho detto, è una cosa buona, perché molte altre volte sono capitate cose simili e le aziende, col cavolo, che hanno dato la possibilità di ricevere un rimborso. Quindi, da un lato questa cosa è buona. Dall'altro però, attenzione, Alcuni hanno pensato, anzi molti hanno pensato, che questa fosse una sorta di dichiarazione di libero refund. Purtroppo così non è, ragazzi, o perlomeno non certo al 100%. Tanto per cominciare fino al 21 dicembre. Quindi, boh, una settimana? All'incirca? Fino a quel momento vi aiuteranno direttamente quelli di CD Projekt Red. Poi, è una mail, io mi aspetto che saranno inondati completamente di richieste. Non credo che la cosa sarà proprio in tempi brevissimi, che nel 24-48 ore abbiate una risposta, anche qui. Felicissimo di essere smentito, però ragionevolmente, se di fronte a un caos assoluto come questo, tu dai una mail, arriveranno, boh, milionate di mail nel giro di poche ore. È possibile che sia così. Poi, per quanto riguarda il sistema di rimborso tramite PlayStation e Xbox, attenzione, ragazzi, perché c'è una cosa da dire. Molti ragazzi mi hanno contattato dicendomi, guarda, io sono riuscito a farmelo rimborsare. Quindi ho dedotto che effettivamente, al di là delle politiche di PlayStation, qualcosa fosse possibile fare. Così sembra, in parte. Però, vi ricordo che le politiche di PlayStation sono quelle di non rimborsare il gioco se è stato acquistato e anche soltanto scaricato. Purtroppo è questa politica che non condivido per niente, la trovo veramente anticonsumatore. Questa cosa qua, però questa è la politica di Sony. A fronte di questo, ragazzi, purtroppo pare che Sony stia negando molti rimborsi su PS4 e PS5. La segnalazione arriva da un thread di Reset Air nel quale fa vedere una serie di utenti alle prese con l'assistenza Sony, la quale risponde a tutti allo stesso modo. Il contenuto è stato scaricato e eseguito in streaming, di conseguenza non è più possibile richiedere un rimborso. E purtroppo la realtà sembra essere questa. Infatti la politica dell'azienda niponica, come vi ho detto, prevede che il rimborso avvenga solo ed esclusivamente se non è avvenuto nessun tipo di download. Vedremo se in questi giorni cambieranno le cose, perché io, ripeto, ho abbastanza persone che mi hanno scritto nei commenti, anche in privato, dicendomi, guarda, io sono riuscito a ricevere un rimborso. Magari qualcuno mi ha detto sì, sono dovuto stare al telefono un po', però un pochettino, dopo un pochettino, sono riuscito ad avviare questa pratica e già è stato rimborsato. Perfetto. A quanto pare la situazione è un po' meno idilliaca di quella che pensavo io, però, dato che queste persone esistono e me l'hanno detto, non sembra che Sony stia negando a tutti il rimborso. Io sto cercando di essere speranzoso, ragazzi. Per essere realista vi dovrei dire eh, ragazzi, la politica di Sony è questa e quindi è difficile che. E molti recensori, molti, io ne ho contati almeno tre, hanno fatto la prova di acquistarlo apposta, il gioco in versione PS4 digitale, scaricarlo, giocarlo un secondo e dopodiché provare a chiedere il rimborso per vedere se questa cosa è effettivamente per testare sul campo questa cosa, ok? Alcuni delle riviste. E purtroppo a tutti e tre quelli che ho letto è stato negato il rimborso. Ora, ragazzi, purtroppo la situazione mi sembra veramente tanto in divenire. Se da un lato sto lodando CD Projekt Red per essersi almeno scusate aver cercato di metterci una pezza, cosa che altre aziende in altri casi quasi, quasi, altrettanto gravi, devo dire che questo è grave un bel po', non hanno fatto, bene quindi. D'altro canto, le condizioni sembrano essere un po' accidentate per ricevere il rimborso. Quindi, metà e metà. Io sto cercando di dare il beneficio del dubbio a CD Projekt Red perché l'ho blastata abbastanza finora e sto cercando un punto per tornare ad avere un po' fiducia in questa casa in cui tutti avevamo fiducia prima, ok? Comunque, non voglio portare il discorso oltre perché ci sarebbero un sacco di altre cose da dire. Voglio cogliere l'occasione prima di chiudere il video per una volta invece di rimandarvi a un mio video che onestamente ne abbiamo parlato tanto, ragazzi. Non ho voglia di farne un altro ancora in cui si parla di questa faccenda qui. Ci sarebbero delle cose da dire. Però voglio evitare e con l'occasione segnalarvi non solo un altro video ma un altro YouTuber che si chiama Cyberlook. È un canale piccolino non molto diverso da quanto ero io insomma poco fa tutto sommato che fa dei bei video è molto incentrato su Cyberpunk ama molto l'ambientazione questo gioco già da molto tempo lo sta trattando moltissimo e soprattutto è attivo in questo periodo ovviamente e vi rimando a questo video qui Cyberpunk 2077 rimborsi, scuse e promesse secondo me è un'analisi molto valida vi rimando a quella e sono perfettamente d'accordo con quello che lui ha detto in questo video qua ok? Davvero non voglio tornarci per l'ennesima volta però questa notizia ve la dovevo dare anche perché molti mi hanno chiesto ma quindi questa cosa di rimborsi com'è? Eh ragazzi la realtà è che non si sa la realtà è che non si sa fino a prova contraria purtroppo la politica Sony è questa ma allo stesso tempo delle persone mi hanno scritto di essere riusciti ad avere un rimborso quindi se se vi va scrivetemi qui sotto nei commenti voi che avete ricevuto un rimborso se ci siete come avete fatto proprio passaggio passaggio semplice semplice perché mi hanno detto alcuni delle cose diverse e quindi vuol dire che il rimborso magari può essere ottenuto con certe vie se vogliamo piuttosto che altre e magari ce n'è più di una quindi se vi va scrivetemi qui sotto nei commenti come avete fatto a ottenerlo perché magari questa informazione può essere utile ad altri utenti allo stesso tempo ragazzi vi direi fatemi sapere se invece non avete ricevuto un rimborso perché anche quello come base statistica se vogliamo è utile da capire e magari unendo le due informazioni qualcuno riesce a ricavare un ragno dal buco d'accordo? Bene ragazzi ne abbiamo parlato abbastanza di questo tema vi rimando al video di Cyberlook che è fatto molto bene e ve lo consiglio anche come youtuber in generale ogni tanto mi piace segnalare qualche altro video credo che lo farò più spesso d'ora in poi e detto questo ragazzi io vi saluto vi rimando al prossimo video grazie mille per aver visto questo e come sempre ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al secondo canale seguitemi su Twitch lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram tutti i link per supportare il canale anche il link alla playlist con tutti i video delle mini news d'accordo ragazzi? A presto iscrivetevi al canale